Altro giro, altro verdetto. Il Manfredonia torna in campo già domani e si gioca in 90 minuti la possibilità di continuare il proprio percorso nella fase nazionale di Coppa Italia dilettanti. Sipontini di scena a Sarno nel terzo e ultimo atto del triangolare della prima fase contro il San Marzano. Fischio d'inizio allo stadio Felice Squitieri, previsto alle ore 14.30. Entrambe hanno battuto nei primi due incontri i lucani del tricarico. La squadra di Pasquale De Candia però lo ha fatto con più gol di scarto, ecco perché domani potrà contare su due risultati utili su tre per accedere ai quarti di finale. Invece non essere onesti, è meglio avere due risultati su tre che invece andare con l'obbligo di vincerla che sicuramente poi nel proseguo della partita quando poi devi far gol è normale che poi il nervosismo ti fai prendere dall'ansia, non è semplice, invece si può gestire diversamente poi è normale che in campo all'inizio della partita fino all'ultimo quarto d'ora, dieci minuti si pensa che hai due risultati su tre, però non puoi andare in campo con la consapevolezza di attendere perché col pareggio passi. No, devi andare lì e fare la partita come sempre con la mentalità di vincerla e poi se negli ultimi dieci minuti siamo nel risultato di parità e sappiamo, siamo consapevoli che il risultato di parità ci fa passare il turno è normale che lì da squadra matura come quelle che siamo sapremo bravi a gestirla. Attualmente è in corsa in Coppa Italia di Lettanti ed è anche primo nel giro 1A di eccellenza. Il Manfredonia ha sfruttato la sconfitta del Biceglia Molfetta contro il Borgo Rosso per balzare a più 6 sulle inseguitrici grazie anche al successo di misura ottenuto a San Severo. Non una prestazione indimenticabile ma in questa fase della stagione alla luce dei tantissimi impegni contano soltanto i risultati. Non è stata una bella partita però sono stati bravi gli avversari, effettivamente hanno completamente rinunciato a giocare perché si sono messi tutti i undici dietro la linea della palla, per noi trovare spazio non è stato semplice però credo che è è stata una vittoria di una squadra matura che ha aspettato il momento giusto per colpire nel momento in cui siamo andati in vantaggio, l'abbiamo gestita bene, bisogna fare un applauso ai ragazzi che veramente a livello proprio di gestione, di maturità sta crescendo tantissimo. Notizie che invitano all'ottimismo intanto sembrerebbero arrivare sul fronte Miramare, a breve dovrebbero partire i lavori e nell'arco di circa un mese il rettangolo di gioco potrebbe tornare ai colori tradizionali, quelli del verde e del sintetico sarebbe fondamentale per le ambizioni dei Sipontini avere a disposizione la struttura per il rush finale di questa stagione, Moscelli però preferisce non sbilanciarsi. La speranza è l'ultimo morire, è normale che ci auguriamo anche noi che possa veramente succedere qualcosa di importante che ci possa portare a disputare diciamo le ultime partite sul nostro stadio, sarebbe veramente bello, però dire più di questo non me la sento.